Uno degli scrittori più rappresentativi della letteratura italiana ed europea contemporanea. Nato a Malo nel 1922 e morto a Tiene nel 2007, Luigi Meneghello viene ricordato nel centenario della nascita con una serie di iniziative, 62 gli eventi in programma, dalle letture alla mostra fotografica alla passeggiata alla scoperta dei suoi luoghi di origine. È da esattamente un anno e tre mesi che stiamo seguendo questo progetto. All'inizio con un piccolo e ristretto gruppo di appassionati per poi allargarci agli accademici e successivamente alle istituzioni dei comuni con termini nonché della provincia di Vicenza. Di conseguenza non abbiamo mai stoppato questo lavoro in mane per poter oggi, da oggi in poi, restituire il giusto risultato al nostro amato scrittore. Una vita narrata attraverso i suoi libri, l'educazione culturale e scolastica con Libera Nossamalo, Pomopero, Fiori Italiani, l'esperienza della resistenza combattuta da partigiano tra la Gordino, l'altopiano di Asiago, le colline vicentine, la città di Vicenza e Padova, i piccoli maestri, la laurea, il primo dopoguerra e il dispatrio in Inghilterra e la carriera di insegnante nel mondo accademico inglese, lo studio della lingua e delle sue potenzialità espressive. Libera Nossamalo e i piccoli maestri hanno ispirato realizzazioni teatrali e cinematografiche, il Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della sua nascita ha in serbo giornate di studio che da malo spaziano tra Firenze, Zurigo, Ginevra e Milano. Il respiro del nostro scrittore non è solamente relativo al nostro territorio e quindi alla lingua veneta ma trasversale con il suo trasferimento a Reading, ha poi coinvolto università di vario livello e ha trasferito le sue opere anche all'estero con traduzioni in inglese, francese e spagnolo. Ecco perché direi che non possiamo esimerci dal celebrarlo in un modo molto importante, come è giusto che sia, facendo anche parte del Comitato Nazionale promotore per i festeggiamenti, per le celebrazioni del centenario di Luigi Meneghello. Grazie.